Da segnalare un terremoto di magnitudo 2.3 che si è verificato a confine tra i comuni di Lamonna e Sovramonte, pochi minuti prima delle ore 17 di ieri, domenica 9 agosto 2020, a circa 10 km di profondità. Il terremoto è stato localizzato alla sala sismica dell'NCQ di Roma, secondo invece quello che è rivelato all'Oggio Este, centro ricerche sismologica di Trieste, la magnitudo sarebbe stata di circa 2.2, epicentro 2 km al nord dell'apidato di Lamonna, sempre a circa 10 km di profondità dal terreno del suolo, che dir si voglia. Il sismo del terremoto, che dir si voglia, è stato avvertito distintamente però anche a Feltre. In diversi comuni del Feltrino è stato accompagnato anche da un forte boato, e più lo sostengono che sia un boato, forse in realtà si tratta soltanto di un mero e semplicissimo rumore. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, iscrivetevi se vi fa, commentate e un saluto nei cari italiani del narrato italiano.